Dea Scuola è un editore di riferimento nel panorama dell'editoria scolastica in Italia ed è un editore che non solo fornisce testi e servizi ma è anche un punto di riferimento per quanto riguarda la formazione docente. In particolare noi siamo qui a Didacta per presentare il nostro catalogo di formazione un catalogo di formazione che è fatto di iniziative di co-progettazione con le scuole quindi di formazione su misura oltre a tutta una serie di interventi e iniziative formative di vario genere sui temi più caldi della scuola. E quindi oltre alla progettazione insieme alle scuole e all'erogazione Dea Scuola con il suo settore di formazione docenti provvede anche all'erogazione di un servizio di assistenza nel caricamento e nella predisposizione della documentazione che sarà necessaria per avviare i corsi oltre a tutta un'assistenza e un accompagnamento alla scuola e ai docenti di riferimento nell'avvio e anche nella rendicontazione poi di tutte le iniziative formative. Mi riferisco in particolare di M65 e M66, sono quelli riferiti al multilinguismo, allo STEM e alle competenze digitali dei docenti. Quindi Dea Scuola è a fianco dei docenti, è un'occasione imperdibile quella che ci offre il PNRR in questi mesi per avviare un processo di vera trasformazione, di vera innovazione. Quindi il nostro motto è Innoviamo Insieme. Grazie.